Intenta a fare le pulizie primaverili, Mara Veniere a casa, ma Domenica in non è in quarantena e torna in diretta, scopriamo cosa è successo. Continua l'emergenza coronavirus e molti programmi tv sono stati sospessi. Anche Domenica in condotto da Mara Veniera ha fatto una settimana di pausa, ma pare che la RAI abbia deciso di riprendere la diretta del programma. È stata la stessa conduttrice ad annunciarlo qualche giorno fa, ma altri programmi rimangono fermi, come ad esempio Vieni da me di Caterina Balivo. La Veniera ha confessato però di essere molto turbata per quanto stiamo vivendo tutti e non ha nascosto la sua commozione. Però ha anche mostrato la sua felicità nel riprendere la trasmissione che le consente di intrattenere tanti spettatori alla Domenica. Poter guardare un programma come Domenica in in questo periodo di quarantena forzata per molti è un sollievo. Mara Veniere immortalata mentre fa le pulizie primaverili.In attesa che torni in studio, la Veniere si dedica però alle faccende di casa. Ecco quindi che il marito Nicola Cararro l'ha immortala in uno scatto mentre fa le pulizie di primaverili. Mara era sul terrazzo intenta a pulire e questo ha fatto pensare ai fan che potrebbe esserci un rinvio. Cosa sarà successo? Allora a Domenica e rimane in quarantena? Sembra proprio di no, pare invece che tutto sia pronto per riprendere. Stando a quanto pubblicato da blog, la puntata di Domenica dovrebbe essere ricca di ospiti. Nella trasmissione ci sarà informazione e intrattenimento. Numerosi saranno gli ospiti che terranno compagnia agli italiani, la maggior parte dei quali saranno in collegamento con lo studio. Tra questi ci saranno Renzo Arbore, Gigi D'Alessio e Lino Banfi. Tutti ricorderanno agli italiani di stare a casa e rispettare le regole. Tanti gli ospiti che interverranno a Domenica in punto L'appello sarà dunque rivolto a tutti gli italiani e i VIP approfitteranno della trasmissione per ricordare a tutti l'importanza di questo gesto. Rispettare le regole vuol dire avere la possibilità di far durare il meno possibile questa emergenza. Tra gli ospiti che interverranno durante la trasmissione ci saranno anche Arisa, Luca Argentero e Don Antonio Mazzi. Argentero parlerà della fiction di cui è protagonista e che porta il titolo Doc nelle tue mani, intratto da una storia vera. Durante la trasmissione ci saranno diversi collegamenti e aggiornamenti per informare sulla situazione coronavirus che l'Italia sta affrontando. Durante la trasmissione ci saranno diversi.